no no siamo lenti per adesso però guarda ti dico se l'hanno approcciata di dire gioco sotto il ritmo il primo tempo per giocare il secondo e fare il contrario di quanto abbiamo visto fino adesso mi va quasi bene se non ci accendiamo con lo strappo di chiesa ritmo neanche per sbaglio se vincere la champions league sarebbe ora di vincere una partita in serie a guarda invece che varsi dare la palla gli ha detto calma e poi è andato via madonna impazzisco divento matto far regista invece che farsi dare la palla dice aspetta e poi scappa ma certo che non è un regista lo sappiamo tutti però se giochi in quella posizione non puoi giocare al contrario di quello che devi fare nel ruolo cazzo il regista va incontro e prende il pallone ma dio santo rabbio si bravo di bala cazzo mckenny un passaggio di ritorno e mckenny gioca con loro in questi primi 26 minuti c'è il gol è il gol di moise mentre bevo c'è il gol di moise grande moise grande moise dal niente grande moise dal nulla l'uno a zero o no siamo in vantaggio nel primo tempo siamo in vantaggio nel primo tempo è un problema è un problema assis di rabbio se ho visto bene lancio lungo di testa torre di rabbio arriva che la mette nell'angolino piazzandola lancio lungo di bonucci rabbio assis di testa che nel nell'angolino bel gol di ken è bello anche l'assist di rabbio è bello anche l'assist di rabbio facciamo a farlo da rigore qua uh shesley ma esulta anche come cristiano ronaldo mi esulti anche come ronaldo dai c'è ditemi che c'è una telecamera nascosta ditemi che è una candid camera non può essere la realtà non può essere il mondo reale sto sognando ma se è ma dai 19 partite di file in serie a in cui si prende gol da jasi che esulta come cristiano ronaldo non riesco cioè più mi interrogo e più mi chiedo punizione in che modo cioè davvero è quello che dicevo l'altro giorno o calci piazzati o errori degli altri o ripartenza paolo dio santo il signore che bello che era che bello che era una fascia composta da desciglio basso e rabbio alto non l'auguro neanche al mio peggior nemico che spinta che abbiamo da quella parte no neanche all'inter neanche all'inter l'auguro mi auguro che possano avere di meglio perché rispetto i miei avversari posso mettermi a piangere per un quarto d'ora durante l'intervallo bravo chicco bravo chicco bravo chicco bravo chicco bravo chicco bravo chicco antist vorrei verso la porta di scena ora deve frenare gestire le velocità provo al destro super top il primo in serie A di Shanice antist partito dalla propria da campo arrivato fino in fondo inizia il secondo tempo e arriva al trattato lo spezia e l'ultimo periodo è continuo però questo ragazzo ha fatto un gran gole si era partito dal tentativo di tiro di di Rabiot la palla ha messo in profondità alle spalle di Borrucci Scherdi ha avuto un momento in cui se Bravo potesse tentare di arrivare sul pallone ha aspettato si vedono neanche in maniera corretta però è stato bravo è rientrato e l'ha pescato sul suo pallone vedi qui parte addirittura prima della metà campo vedete un po' in ritardo mi scelgono di rientrare tutto sommato lo prende lui rientra è bravo è bravo poi c'è ancora una deviazione vedi che Scherdi si aumenta della deviazione forse dello stesso Borrucci per vincere bisogna fare due gol nei secondi tempi e in cinque partite ne abbiamo fatti zero zero per vincere bisogna farne due due bisogna farne ne abbiamo fatti zero e non prenderne più ma vacca d'un cane Locatelli bisogna farti una statua una statua bisogna farti Locatelli una statua a porta vuota ha salvato il trauno Rabiot bisogna buttare giù la porta stai perdendo con lo spezia bisogna muoversi niente hai due all'ora lo stesso al 65esimo hai due all'ora perdi con lo spezia Federico Chiesa bisogna mangiare ci vogliono i miei giocatori come lui ci vogliono i miei giocatori come lui che hanno voglia di giocare a calcio Dio santo che hanno voglia di giocare a calcio non che vanno i due all'ora che hanno voglia di giocare fenomeno fenomeno state giocando nella Juventus Federico Chiesa sa cosa cazzo vuol dire giocare nella Juventus altro che deve imparare Federico Chiesa è la Juventus è la sua balla l'armi volo girato persino il secondo angolo pro Mattaris DELIT Chiesa e DELIT devono giocare sempre sempre mai in panchina Chiesa e DELIT devono giocare sempre Dio santo il Signore Dio sempre devono giocare Chiesa e DELIT chiaro è chiaro che devono giocare sempre Chiesa e DELIT quegli altri ci guardiamo sempre devono giocare e adesso guai a Dio se vi fermate di giocare si gioca ancora se abbassate il baricentro vengo lì a tirarvi le orecchie facciamo un applauso a questo qua facciamo un applauso a questo qua Morata vieni via dobbiamo pressare Morata vieni via ci sono 50 secondi da giocare Morata vieni via con lo Spezia stiamo giocando si ma non abbiamo ancora vinto e vorrei vincere con lo Spezia stiamo giocando ma vale 3 punti anche questa dai Dio santo Dio santo